Siamo a Malta, nel porto di Valletta, e siamo qui per i 100 anni dalla nascita di Teseo Tesei e siamo proprio sul luogo dove lui trovò la morte il 26 luglio 1941. Siamo al ponte della Fortezza di Sant'Elmo e siamo qui proprio per commemorarlo. Qui ricordiamolo che in azione il 26 luglio 1941 alle 4 e mezza, dopo aver risolto degli inconvenienti su un siluro a lenta corsa che doveva andare verso Marcia e Smet, il 26 e Pedretti su un siluro a lenta corsa piazzarono una carica da 350 kg proprio sotto questo ponte che doveva essere distrutto perché aveva delle reti antinave e anti siluro a lenta corsa, solo che non c'è stato tempo perché l'equipaggio si potesse allontanare perché era troppo tardi e l'azione sarebbe stata compromessa e quindi Tesei e Pedretti, dopo aver piazzato la carica, sono morti proprio in queste acque. Adesso cercheremo di fare un'immersione per la documentazione su banca e lasceremo anche un ricordo con un'acqua in commemorazione di queste volte. Grazie a tutti! Grazie a tutti!